Dall'Università Aldomoro di Bari il dibattito sul rapporto che intercorre tra la finanza pubblica europea, lo Stato nazionale e il governo degli enti locali si è spostato per un pomeriggio alla Sapienza di Roma nella facoltà di giurisprudenza dove il rettore dell'Ateneo barese Uricchio ha presentato il suo libro che si pone l'obiettivo di riflettere su quali siano gli effetti di natura sia economica che giuridica del cosiddetto fiscal compact, dell'insieme cioè delle regole europee che devono assicurare la sostenibilità dei conti pubblici. Il tema è di particolare attualità perché i vincoli posti dai trattati europei e poi costituzionalizzati nel 2012 impattano sul sistema di governo della finanza pubblica e anche della finanza territoriale. Esiste ancora la sovranità nazionale, ci si chiede nel volume? Esiste l'autonomia finanziaria per gli enti territoriali che incontrano evidentemente limiti nella propria azione di governo della spesa? Al volume hanno collaborato alcuni colleghi professori e anche la regione Puglia con l'apporto di esperienze concrete alla luce soprattutto delle regole del patto di stabilità interno. All'incontro romano numerosi pugliesi, tra questi l'onorevole Sisto, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Si tratta di coniugare anche la materia costituzionale con le materie di specifica competenza di Antonio Uricchio e di Mario Aulenta. Credo che loro abbiano prodotto uno sforzo innovativo che in qualche maniera dà la possibilità di comprendere come l'economia oggi penetri pesantemente in tutte le forme di diritto, anche in quelle costituzionali.